La nuova evangelizzazione deve basarsi sul primato della testimonianza, sull'andare incontro, su un progetto pastorale centrato sull'essenziale. Lo ha sottolineato Papa Francesco parlando alla plenaria del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione. Occorre risvegliare la fede di fronte agli atteggiamenti di indifferenza, ha detto, mostrando che la Chiesa è formata da persone che vivono quello in cui credono, mentre a volte non è così. La Chiesa è invitata a suscitare speranza e le sue porte sono sempre aperte. E serve una pastorale che richiami l'essenziale, che sia ben centrata sull'essenziale, cioè su Gesù Cristo. Non serve disperdersi in tante cose secondarie o superflui, hanno dato il Papa, ma concentrarsi sulla realtà fondamentale che è l'incontro con Cristo, con la sua misericordia, con il suo amore e l'amare i fratelli, come lui ci ha amato.